Buongiorno a tutti, 2 giugno, Daliuk 65, nottata calda, iniziano a sentirsi i primi caldi, ma previsione una settimana di calo di temperatura, almeno qua, si dovrebbe dormire un po' meglio e alzarsi un pochettino più riposato. A proposito di Galdo, ho visto il calendario delle partite di calcio della Juve, al di là del Tour de Force, almeno credo di aver visto una sola partita alle 5 e un quarto, il derby Juventus Torino, tutte le altre 21 e 45, non si capisce il motivo per cui non si possa giocare alle 7, il derby, il derby, cioè il derby, partita delicata alle 5 e un quarto, cioè dobbiamo giocarlo con l'AFA e col Torino, che ovviamente si impegnerà giusto con la partita, giusto con la partita, sempre che non sia invischiato nella lotta per non retrocedere, che quindi sarà ancora peggio. Comunque vabbè, 21 e 45, 17 e 15, ormai quest'anno è così, abbiamo capito che hanno in animo di, se frizzano il campionato non vogliono assegnarlo, loro non vogliono assegnarlo, cioè lo assegnano ovunque, ma loro non vogliono assegnarlo. Gli sta proprio sul gozzo assegnare lo scudetto. Hanno assegnato uno scudetto vergognoso nel 2006, che nessun organo mondiale aveva chiesto di assegnare, perché qualcuno dice, ce l'ha detto qualcuno, non è vero, nessuno aveva chiesto di assegnare lo scudetto, si sono arrogati il diritto, 4 presuntosi qua in Italia, perché forse ti famano l'Inter. Però questo non vogliono assegnarlo, ma del resto alla Juve non ne hanno assegnati altri vinti, 1908, 1909, sono lì, nel libro delle statistiche, dimenticati e non si sa per quale motivo. Forse c'era caldo e sudavano. Quindi un calendario fitto di impegni, ma fitto di impegni per tutti. Non bisogna accampare nessuna scusa, ognuno ha costruito le rose vecchie, giovani, corte, lunghe, se ne assume la responsabilità. Spero non siano usati algoritmi vari per stabilire la classifica, perché gli algoritmi poi, gli algoritmi lasciano il tempo che trovano, soprattutto quando sono fatti da, non si sa da chi siano fatti gli algoritmi. Gli algoritmi lasciamo ai professori di matematica. E quindi vedremo delle partite dalle 21.45 in poi, quindi se prima ero scomunicato fino alle 10, a sto punto rischierò di essere sbuttato fuori di casa da mia moglie, la colpa sarà del calendario della FIGC, perché mia moglie mi sentirà gridare fino a quasi mezzanotte, a meno che la Juve non sistemi subito le partite già nel primo tempo. Se continuiamo sulla falsariga dall'inizio di campionato fino all'8 marzo, ci sarà da sclerare fino a mezzanotte, andrò a dormire con la rabbia in corpo. E quindi ribadisco il mio concetto. Ricordatevi quello che vi ha detto il Juke 65. Sarri sarà giudicato tra il 14 e il 17, ci sarà già un primo giudizio su Sarri. Quindi Milan, semifinale di Coppa Italia, non oso immaginare se venga buttato fuori da una squadra a cui mancano tutti gli elementi più importanti, da Teo Hernandez, da Rebic, a Ibrahimovic, forse Conti. Quindi non oso immaginare, dovesse nemmeno disputare la finale di Coppa Italia, cosa che lui non conosce perché Sarri non ne ha mai disputata una, quindi bisognerà fargli vedere qualche filmato, dove poi incontrerà o la sua ex squadra, per cui se perdesse potrebbe essere contento perché ha perso contro la squadra per cui tifa. A quel punto se ne può andare direttamente, può non tornare col pullman della Juve da Roma. E non oso immaginare cosa succederebbe se perdesse con Conte, che gli solleva la Coppa Italia in faccia, Coppa Italia che conta poco, ma sarà una partita comunque di grande significato perché per Conte significherebbe trofeo con una squadra odiata dei tifosi juventini e sarebbe una doppia beffa, una doppia beffa per la società e per tutti e quindi secondo me Sarri anche lì farebbe meglio a non tornare direttamente a Torino. Io fatico, in caso la Juve non conquistasse la Coppa Italia, a vedere Sarri ancora sulla panchina della Juventus, ma fatico molto. Sarri ti auguro di sprigionare in quelle due partite il meglio, perché sennò tu già sei un walking dead. Un saluto a tutti da Luke65.